E' Salvo Patanei il rappresentante del sito Unesco Etna Patrimonio dell'Umanità. L'elezione è avvenuta al termine della riunione dei sindaci dei comuni che ricadono nel territorio del sito e si è svolta nei giorni scorsi nella sala giunta del Palazzo degli Elefanti di Catania. Patanei è vice sindaco del Comune di Giarre ed è stato assessore comunale e consigliere provinciale del Partito Democratico. Con la sua elezione inizia a prendere forma l'organo esecutivo del coordinamento Comuni Siciliani Unesco che attuerà scelte di indirizzo e politica di gestione del sito. Accanto all'esecutivo verrà istituito il Comitato Tecnico Scientifico. A breve tutto sarà pronto per iniziare la programmazione necessaria per svolgere tutte le attività necessarie in visione dell'Expo 2015 di Milano, ci dice il neoeletto Salvo Patanei. Devo ringraziare chi mi ha votato e chi ha creduto in me. Quella che rappresenta è una figura nuova perché è nuovo l'apparato organizzativo che gestirà il sito Unesco dell'Etna istituito nel giugno scorso. Spiega Patanei è stato eletto da pochi giorni ma il vice sindaco di Giarre ha già le idee chiare. Dobbiamo andare avanti guardando indietro nel passato dei viaggiatori che scrissero dell'Etna e che hanno tracciato gli orizzonti da raggiungere. Uno sguardo al passato dunque per costruire un futuro proficuo e ricco di offerta culturale per questo economica. Salvo Patanei crede nelle potenzialità dell'Etna, patrimonio dell'umanità. Occorre proiettarsi in una dimensione ampia all'interno del quale il vulcano Etna deve essere visto come un bene immateriale. Sarà questa la sfida più grande per uscire dai limiti che soffocano la cultura e il turismo locale. Grazie.